Siamo qui con Coach Masi, stasera allenatore della selezione All Star, normalmente allenatore dell'hotel Gallo di Castel del Rio, com'è andata la serata? La serata è andata bene, a parte il risultato finale che abbiamo perso, però le forze in campo erano lentamente inferiori, comunque ci siamo divertiti, è stata una bellissima serata. E invece il campionato l'anno scorso un po' di doppicanti, quest'anno Cenerentola? Sì, l'anno scorso molto doppicanti, abbiamo cambiato tantissimo perché abbiamo confermato solo quattro elementi, siamo uniti a un gruppo con cui ho sempre giocato quando ero giocatore a Faenza, che ci ha cambiato notevolmente la stagione, stiamo andando bene, sono ragazzi che ci credono sempre, non mollano mai, se siamo sopra dei 20 o sotto dei 20, speriamo di portare in fondo con questa stagione, nel migliore dei modi. Secondo te una previsione dove potreste arrivare? Noi per come si è concluso l'andata puntiamo ad arrivare nelle prime quattro sicuramente, poi tutto quello che viene in più è tutto di guadagnato. Quindi un pensiero al titolo lo fai? A questo punto della stagione non si può dire, però non ci dispiacerebbe, però è ancora lunga ancora.